Il compendio ex militare di Punta Rossa di Caprera rappresenta un bene di interesse culturale e storico. Il recupero delle strutture e la loro riqualificazione per fini turistici e ambientali fanno parte degli interventi per il rilancio socio-economico del territorio dell'isola di La Maddalena. Lo ha detto l'assessore regionale agli enti locali Quirico Sanna durante la visita al compendio di Punta Rossa di Caprera, che dal 2008, dopo la firma dell'accordo Stato-Regione, è stato trasferito a titolo gratuito dal demanio militare al patrimonio regionale. L'assessore agli enti locali è stato accompagnato nella visita dal sindaco Fabio Lai. Lo strumento, aggiunto l'assessore, che consentirà una fruttuosa gestione del compendio, è la concessione e locazione ai privati a titolo oneroso con l'obiettivo di valorizzarlo grazie a un progetto di recupero. Sarà necessario mantenere l'equilibrio tra il complesso militare, la sua storia e l'ambiente naturale di pregio che lo circonda, un insieme che rappresenta il valore unico e assoluto di Punta Rossa. Nelle scorse settimane la giunta regionale ha approvato la delibera che prevede il bando di gara. La volontà della regione, ha concluso Sanna, è quella di recuperare e valorizzare la struttura senza realizzare alcun metro cubo in più rispetto all'esistente.